I cristiani sono uomini e donne di speranza. Non cedete alle lusinghe del mondo e aspettate Gesù, che abbatte i muri delle divisioni offrendoci una cittadinanza all'appartenenza a un popolo. È l'esultazione che questa mattina Papa Francesco ha pronunciato a Santa Marta, celebrando la Messa. Aspettare Gesù. Chi non aspetta Gesù, chiude la porta a Gesù. Non lo lascia fare quest'opera di pace, di comunità, di cittadinanza, di più, di nome. Ci dà un nome. Ci fa figlio di Dio. Questo è l'atteggiamento di aspettare Gesù, che è dentro della speranza cristiana. Il cristiano è un uomo, una donna di speranza. Sa che il Signore verrà. E davvero, verrà, eh? Non sappiamo l'ora come questi. Non sappiamo l'ora. Ma verrà. Verrà a trovarci. Ma non a trovarci isolati, nemici. No. A trovarci come Lui ci ha fatto col Suo servizio. Amici, vicini, in pace. Ma non a trovarci.